E comunque andrai, tu nel cuore avrai, sempre l'inno, ma l'inizio in te vuoi. Benvenuti nel mondo della danza, un mondo di passione, talento e creatività. Le immagini di questo video vi trasporteranno in un vortice di movimenti agili e armoniosi, in cui i giovani ballerini mostrano tutto il loro impegno e dedizione. Ballerini in erba che si trasformano in vere e proprie stelle del palcoscenico. Grazie all'insegnamento di due maestre straordinarie, Liana e Daniela Bartolomeo. Il progetto Bentornato e Migrato è stato realizzato col patrocinio del comune di Porto Empedocle e promosso dalla cooperativa Ulisse. Progetto Danza ha aderito a questa prima edizione, dando la loro più totale disponibilità personale e professionale. Immergetevi in un turbine di movimenti armoniosi, dove giovani ballerini si trasformano in autentiche stelle del palcoscenico. Questi straordinari ragazzi ci regalano emozioni autentiche, frutto dell'impegno e della dedizione di due maestre eccezionali. Coinvolgete i vostri amici nel vedere il video dei, talentuosi allievi della scuola di danza Progetto Danza di Liana e Daniela Bartolomeo. Siamo sicuri che vivrete un'esperienza indimenticabile che vi lascerà senza fiato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.